Buongiorno, buonasera, è una mattina bellissima e oggi ti rivelo che cosa devi fare se lui ti ha fatto ghosting quindi vediamo insieme qual è la soluzione nel caso di ghosting allora, se non sai che cos'è ghosting, aspetta un attimo perché andiamo avanti stai vedendo questo video probabilmente prima del 2 luglio sei ancora in tempo per partecipare all'evento che sto per rilasciare il 2 luglio alle ore 21 quindi se vuoi partecipare scrivimi in privato su instagram la parola evento e ti manderò il link di accesso all'evento riservato mio unico del 2 luglio alle ore 21 dove se parteciperai avrai la chance di vincere due mesi della mia assistenza completamente gratuita quindi ci vediamo dall'altra parte, scrivimi su instagram in privato la parola evento e partecipando all'evento hai la possibilità di vincere due mesi della mia assistenza gratuita rilasceremo una notizia mai rilasciata fino adesso quindi mi raccomando è un solo evento, una sola volta, non si ripeterà più ora, andiamo avanti per ovviamente risolvere il problema del ghosting voglio che tu faccia solo queste cose quindi metti in pratica questa strategia, provala immediatamente fammi sapere come va, fammi sapere che succede testala, ok? quindi test it out, provala immediatamente allora, la strategia consiste in fare questo fai esattamente questa cosa se lui ti ha ghostato e non ti ha risposto aspetta 48 ore dopo che hai aspettato 48 ore mandagli questo messaggio prendi l'ultimo messaggio quindi hai visto quando rispondi su whatsapp come se rispondessi rispondi a il messaggio l'ultimo che ti ha mandato o l'ultimo che tu gli hai mandato e mandagli soltanto 3 punti di domanda quindi 3 puntini di domandina semplici, ok? una volta che gli hai mandato questi 3 puntini di domanda aspetta altre 48 ore se non ti ha risposto mandagli questo specifico messaggio hai rinunciato a rispondere? quindi punto di domanda questo dopo altre 48 ore se non ti risponde più nemmeno a questa domanda quindi nemmeno a questo messaggio allora prendi la chat e archiviare la chat e lo puoi dare per disperso ok? quindi cosa perché questo? il fatto di mandarti un messaggio scritto hai rinunciato a rispondere implica che la persona si senta quasi obbligata poi a doverti rispondere a doverti dare una risposta perché è stato visto che questo messaggio a livello scientifico in negoziazione funziona molto bene e aumenta il tasso di risposte dalle altre parti quindi dalle altre parti delle altre persone che frequenti eccetera comunque le persone con le quali stai negoziando se vedi il rapporto sentimentale il rapporto dei messaggi come una fase di negoziazione è chiaro ne converrai con me che questo messaggio sicuramente ti può portare un buon risultato può essere interessante quindi mandagli questo messaggio specifico ora se fai queste due cose sicuramente avrai una risposta e quando ti risponde quindi quando non ti avrà più fatto ghosting quindi in questo caso ti sarai salvata dal ghosting vai semplicemente a proporre alla persona dei giorni in cui potresti essere libera di semplicemente potrei essere libera nei prossimi giorni virgola tu come sei messo per bere qualcosa punto di domanda e cerca di organizzare una cavolo di uscita se non ti risponde a quello allora la persona puoi dire che non è interessata e invece di ghosting puoi archivare la chat cancellare la persona cancellare il numero lascia stare mandalo a quel paese mandalo a raccogliere i pomodori basta non concentrarti perché poi stai male ti senti male le cose peggiorano quindi fai solo queste cose segui solo queste strategie specifiche che ti ho appena rivelato nei messaggi ora se vuoi saperne di più e vuoi ricevere la mia assistenza gratuita per due mesi la puoi vincere all'evento del 2 luglio ore 21 devi partecipare all'evento del 2 luglio alle ore 21 per partecipare vai su instagram cerchi il mio nome Federico Picchianti e mi mandi un messaggio in privato con la parola chiave evento quindi scrivi il mio evento in privato su instagram scrivi il mio evento in privato su instagram lo ripeto perché magari non è chiaro ti manderò il link per accedere all'evento del 2 luglio alle ore 21 partecipa all'evento del 2 luglio alle 21 e scopri se hai vinto due mesi di assistenza con me perché rilasciamo una notizia bomba non ci sarà più non verrà più rilasciata è una cosa unica irripetibile quindi noi ci vediamo all'evento ore 21 del 2 luglio così scoprirai se hai vinto la mia assistenza ci vediamo dall'altra parte mi raccomando usa queste strategie in caso di hosting a dopo a dopo Grazie a tutti.